Se raggiungiamo 30 like entro domani, entro le 14, domani uscirà il secondo episodio Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo finalmente arrivati con la nuova carriera che vi stiamo spammando da tantissimi giorni Siamo appunto con la carriera con l'Everton Ve lo dico subito perché tanto l'avrete letto dal titolo quindi non creiamo troppa suspense inutile soprattutto Quindi iniziamo subito, intanto qui cambia subito tecnico e giocatore Il giocatore è rimasto uguale invece di allenatore, c'è il giocatore, l'allenatore non lo voglio cambiare perché tanto non perdiamo tempo Ora mette il nome ma mentre scrivo il nome Allora ragazzi se questo video raggiungerà tantissimi like, visualizzazioni vedrò insomma che andrà bene Raggiungiamo almeno 30 like dai per il primo episodio ci stanno Se raggiungiamo 30 like entro domani, entro le 14, domani uscirà il secondo episodio Che registrerò domani appunto perché voglio vedere i vostri commenti e mi dovrete dare una mano con il mercato Lo inizieremo oggi però lo continueremo domani nel episodio di domani Quindi qua sotto consigliatemi tantissimi giocatori da prendere per questo Everton, da migliorare Quindi niente, volevo prendere la Roma ovviamente, essendo romanista la prima carriera con la Roma Però non ce l'ho fatta a vedere quelle divise, quella maglia e tutto il resto Qui mettiamo elastico perché, penso abbiate visto, c'è sia elastico che rigido Però rigido per il momento no, magari in una carriera successiva Leggenda perché comunque non gioco tantissimo a questo gioco Che hanno messo anche il cambio di proprietà ovviamente non metteremo Quindi niente, andiamo avanti e ci vediamo in carriera Ragazzi non ve l'ho fatto vedere Ho preso il torneo pre-campionato, quello con più soldi Che ci dà più soldi, con 10 milioni se non sbaglio Intanto qui veniamo presentati l'ESC numero 1 Non so sta cosa, non so da dove l'abbiano presa Prima di tutto sistemiamo la squadra Allora io come primo modulo per tutte le squadre Ovviamente su FIFA 20, ho sempre utilizzato un 4-2-3-1 per iniziare Però quest'anno dobbiamo stare molto attenti perché appunto come vedete qui Se un giocatore lo mettiamo fuori ruolo perde tanti punti di overhaul Quindi dobbiamo stare molto attenti I due centrocampisti diciamo che potrebbero essere anche riconfermati Perché Dupore è un buon giocatore, Alan è forte Ames Rodriguez per una stagione lo vorrei tenere Anche se comunque non è tutto sto gran che è proprio per una stagione secondo me ci può stare È un nuovo acquisto quindi non vorrei subito venderlo Di grandissimi acquisti forse c'è da fare un centrale Al posto di Santi Mina che non mi fa impazzire Forse anche un terzino del Coleman abbastanza vecchiotto Ora andiamo a vedere anche nella lista E un esterno perché Garbert Lewin non può fare l'esterno Quest'anno conterà tantissimo La si Virginia ho messo Vabbè meno 36 dice vabbè poi dopo lo sposto Quest'anno conta tantissimo il morale e la lucidità Che è una nuovissima cosa ancora la devo iniziare a capire bene Però appunto bisogna studiarcela bene Comunque non vi ho detto anche l'esterno destro è da comprare Ci guardiamo un po' la lista hub In questo episodio ragazzi farò diciamo più che altro questo Più magari forse farò un acquisto finale Da domani inizieremo veramente il calciomercato Se raggiungeremo i like richiesti E niente possiamo iniziare Alla Pickford secondo me rimarrà il primo portiere Loss potrebbe essere il secondo Va benissimo Lossl Terzino sinistro va benissimo Dign Forse un sostituto però per il momento Dato che quest'anno abbiamo solo il campionato Va bene così Santimina e Kin Vabbè quello che è Diciamo che forse Terrei più Santimina che Kin non lo so Ora vediamo Però non li metterai in vendita sinceramente Magari ne prendo uno però li terrei comunque tutti e due Qui diciamo Holgate lo terrei Vediamo se è in prestito o no Quindi a posto Kenny Diciamo come tersino destro potrebbe mezzo starci Insieme a Coleman Però forse terrei Kenny e prenderei un bel tersino titolare Al centrocampo siamo messi abbastanza bene Abbiamo Allan abbiamo Gomez come panchinaro Abbiamo Ducore titolare quindi secondo me a centrocampo siamo messi abbastanza bene Come sterni Bernard e i Wobby secondo me non sono tutto questo granché I Wobby lo terrei di più però Bernard penso non lo possiamo vendere Anzi forse sì infatti lo mettiamo in vendita Gomez vediamo Io lo metterei in vendita se ci arriva una buona offerta la prenderei come buona Comunque la guarderei bene Sigurdsson diciamo che a una certa età direi di venderlo Allan ovviamente da tenere Ames Rodriguez quest'anno si tiene Wolcott potrebbe anche partire perché non è che questo grandissimo giocatore Bolasì potrebbe partire Carvert-Lewin lo teniamo ovviamente per come sostituto di Richarlison Si alterneranno Ken non lo so Ken diciamo lo teniamo Pavelliamo Tosun lo mettiamo nella lista e anche Sandro Quindi allora adesso andiamo a Diciamo per i titolari andiamo a vedere il piano di crescita In questo caso a lui potremmo migliorargli Cioè potrebbe essere Rapace secondo me perché non è un altissimo E quindi Rapace secondo me potrebbe essere la scelta giusta Che gli aumenta comunque abbastanza veloce Quindi la cosa più importante in questo momento per lui è il tiro Che gli aumenta abbastanza L'agilità potrebbe essere buono che si migliori E anche la resistenza Quindi direi di mettere Rapace Andiamo avanti con Per il resto non lo so Non so chi aggiungere forse Metterei qualcosa forse ad Allgate Che di regola vorrei farlo diventare titolare Direi di fargli fare lo stopper Perché comunque il fisico è molto importante Gli aumenterebbe il fisico Gli aumenterebbe anche la velocità che non è male Quindi facciamo fare stopper a lui E l'ultimo che vorrei Vedere il piano di crescita Vorrei mettergli Qualcosa Vorrei aggiungere qualcosa Il che ci punto Penso rimarrà lui il titolare È Pickford Pickford gli mettiamo portiere libero Che potrebbe con il tempo aumentargli un bel po' di cose Un'altra cosa Gli allenamenti Gli allenamenti ora ce li dobbiamo studiare bene Perché non l'ho mai visti Diciamo che gli allenamenti dovremmo giocarli Perché se no danno tutto e D Quindi bisogna farli Mettiamo Allgate Mettiamo nelle riserve Scenari difensivi Diciamo che potremmo aggiungere Ducure Potrebbe essere buono E quindi direi di aggiungere loro due Poi Andiamo all'altro esercizio Dribbling dentro la zona Questi che ci sono Vanno benissimo E pallone che scotta Che penso è un esercizio per i centrocampisti Va bene così Ora dobbiamo farli Quindi ci vediamo direttamente dopo Ok Qui prendiamo A Quindi tanta roba Vedi i risultati E la lucidità vedete È aumentata La forma si si è abbassata ovviamente Perché gli allenamenti quest'anno Finalmente Finalmente direi Anche se sono molto più difficili da pensare Da fare Però almeno quest'anno Contano qualcosa gli allenamenti E non come l'anno scorso Che non ti abbassava forma fisica Non ti abbassava niente Almeno quest'anno Sì Guadagni un po' di lucidità Però perdi anche un po' di forma fisica Come è giusto che sia Ci è arrivata un'offerta Per Tom Davis 50.000 euro Più il giocatore Che ci hanno messo in scambio Tobias Strombel Cioè Ovviamente Rifiutiamo Però come avete visto E penso abbiate già capito Avrete già visto in altri Penso video Quest'anno Ti possono anche dare Finalmente Delle contropartite Ci sono arrivate altre due offerte Qui abbiamo Sandro Che possiamo anche mandare via E Richarlison 57 milioni di euro Posso arrivare fino a 100 milioni Però sinceramente Richarlison Quest'anno lo voglio tenere Quindi lo blocco E voglio farlo crescere Con questa squadra Altra offerta Abbiamo un'offerta Per John Joe e Kenny Allora Kenny Diciamo che potrei venderlo A 17 milioni Accettiamo Avevo detto che non lo vendevo Però comunque A 76 23 anni Con 17 milioni Più qualche altro Milione Posso comprare Un terzino molto più forte Qui abbiamo Diverse offerte Ora le vediamo Tutte insieme Abbiamo Tosun Che abbiamo detto Che era da vendere Accettiamo anche L'altra offerta Da 7 milioni e mezzo Poi abbiamo Un'offerta per Tio Volkot 6 milioni e 3 Accettiamo Andre Gomez Qui diciamo Che possiamo andare A trattare O andiamo subito A trattare Invece per Sigurdson Accettiamo i 19 milioni Offerti Diciamo che Gomez Potremmo anche tenerlo Infatti io Rifiuterò Questa offerta Vi avevo detto Che avrei accettato Anche un'offerta Magari dei 30 milioni Però pensandoci Dunque 79-26 anni Potrebbe arrivare Anche ad 80 E potrebbe essere Una buona riserva Qui sistemiamo Intanto il budget Siamo a 75 milioni Più vabbè I stipendi Quindi siamo a 92 milioni Quindi tanta roba E adesso vediamo un po' Cosa c'è da fare Ricevuta un'offerta Per Ames Rodriguez Dal Napoli Ovviamente Rifiutiamo Anzi Blocchiamo l'offerta Però c'è arrivata Un'offerta per Bernard Bernard Che io accetterò E quindi ragazzi Adesso ci facciamo Un acquisto Compriamo un esterno E il video finisce qui Per quanto riguarda L'esterno Allora intanto Ho cambiato il modulo Al 433 offensivo Perché non potevo Prendere la S Dato che nel 4231 L'esterno Lo conta C.O.C. Perché nei 3 Dietro la punta Li conta tutti e 3 C.O.C. Quindi avrebbe preso Cioè si sarebbe abbassato Il suo valore Quindi ho cambiato modulo E proviamo a prendere Lorenzini Insigne So che comunque È una certa età Però spero Non vogliano così tanti soldi Io in scambio Darei Bernard Se lo vogliono Più offerta per il cartellino Di 40 milioni Vediamo cosa ci dice Aggiungiamo pure Una clausola del 15% Vediamo un attimo Cosa ci dice De Laurentiis 58 milioni Vi dirò Non è malissimo Non è malissimo Si può chiudere A 48 milioni Più Bernard Senza clausola Vediamo 58 milioni Quest'anno Le trattative Sono molto più difficili Proviamo l'ultima A 55 milioni 55 milioni Per risparmiare Un po' lo stipendio Accettano Il primo acquisto Il primo acquisto È stato fatto Ora andiamo a fare Il contratto Eccolo qui Lorenzini Insigne Abbiamo appunto Cambiato il modulo In 4-3-3 offensivo Diciamo che Di acquisti incredibili Non ci sono da fare Io direi di cambiare Coleman e Bolasì Coleman perché comunque Ha una certa età E Bolasì perché Vabbè non può giocare Ho messo solo per questo momento Quindi direi che Come formazione E come acquisti Insigne E secondo me ci può stare Intanto adesso ci fermiamo qui Domani arriverà L'altro episodio Se raggiungiamo 30 like E appunto Consigliatemi Un terzino destro E un ala destra Il più votato Lo compreremo Nel prossimo episodio Quindi Nel prossimo episodio Inizieremo anche Penso La Premier League Che inizierà a brevissimo E quindi niente Gli allenamenti Ve li ho fatti vedere Vi ho fatto vedere tutto Consigliatemi appunto Qua sotto Giocatori da acquistare Anche con il prestito E diritto di riscatto Quindi Se non ho visto qualcosa Di importante Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti Quindi niente Noi ci vediamo Un prossimo video Ci vediamo domani Bella raga